E' partita la missione Terni per l'Avellino di Claudio Foscarini venerdì sera al Libero Liberati. Ci sarà un match che vale una stagione per la formazione erpina che si troverà di fronte la squadra di Gigi De Canio. Già retrocessa in Serie C. Claudio Foscarini ha avuto buone notizie questa volta dall'infermeria perché per Pier Rangawa e Anton Kresic si è trattato soltanto di un affaticamento muscolare. Dunque saranno a disposizione per la sfida in Umbria, ritornerà dalla squalifica anche Lorenzo Laverone. Dunque un po' di respiro per il tecnico Veneto che potrà schierare una formazione meno rimaneggiata rispetto a quella vista nelle ultime gare. Angelo D'Angelo l'abbiamo visto anche contro lo Spezia è rientrato e dunque si candida per un posto da titolare al fianco di Di Tacchio e Wilmoz anche se poi bisognerà vedere se verrà riproposto il modulo con una punta da Claudio Foscarini. Fatto sta che la concentrazione e la proiezione verso il match di Terni è già iniziata per Lavellino che potrebbe andare in ritiro a partire da mercoledì per quello che ribadiamo è un match che vale una stagione che vale la salvezza per Lavellino la quinta consecutiva nel campionato di Serie B.